Io e te, fermiamo il mondo quando siamo insieme Anche se, dura un secondo come le comete Griderò, griderò il tuo nome, fino a perdere la voce Sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come tu altadene È pronto un altro dei progetti di Don Giacomo, un periodico pensato per i più giovani Il giornalino, distribuito fin dal primo numero in ben 14.000 copie, avrà un successo inaspettato Io e te, fermiamo il mondo quando siamo insieme Anche se, dura un secondo come le comete Griderò il tuo nome, fino a perdere la voce Sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come tu altadene Don Simone Bruno, direttore del giornalino e padre Enzo Fortunato, grazie di essere qui Un grande successo editoriale, cent'anni, direttore Cent'anni di emozioni e cent'anni di storie, cent'anni di volti e di bambini e bambine Che sono cresciuti con il nostro settimanale Un settimanale che è anche chi ci guarda, adesso che è cresciuto insieme al giornalino Io sono uno tra i lettori del giornalino che mai avrebbe immaginato di diventarne il direttore Quindi un momento di grande gioia e anche di grande consapevolezza E poi i bambini, questo giornalino si allarga i bambini Don Bruno non lo sai, leonora, ma glielo diciamo in diretta Facciamo diventare l'organo ufficiale della giornata mondiale dei bambini Che bello! No, facciamo? Certo, subito Diamo questa notizia Perché la giornata mondiale dei bambini, che è stata veramente un grande successo Davanti al Papa, Papa Francesco Quanti bambini sono arrivati? C'era anche la mia Carlotta Incontabili, si può dire? Non li abbiamo potuti contare Perché lo stadio era strapieno Piazza San Pietro, poi tu c'eri, eri presente E' stato un momento di festa E credo che questo momento di festa vada corroborato Vada davvero aiutato con qualcosa che puoi far riflettere In fondo il giornale, il giornalino per i bambini Insomma, gli fa ricordare ciò che è avvenuto Fa mettere insieme i pensieri Fa mettere ordine Sono d'accordo Ed è una sfida per noi Eleonora Perché ancora oggi proponiamo una lettura su carta E questo è un dato importante Cioè, continuiamo a stimolare i bambini a non perdere l'importanza della lettura La lettura però non sul digitale soltanto, ma sulla carta E abbiamo anche scelto di esplorare i temi principali Che le bambine e i bambini guardano con maggiore interesse E' da qui che il giornalino si è moltiplicato in quattro Guardate questa foto Chi è che me la racconta? Direttore, me la racconti tu? Direttore, qua tu devi stare Paolo VI, sbaglio Paolo VI di fronte Che bello Allora, questa foto, direttore? Allora, sono tutte copertine storiche Allora, è il nostro amatissimo San Paolo VI Che venne a fare visita alle rotative, alla stampa Dove il giornalino veniva realizzato Perché come voleva Don Alberione Il giornalino era stato davvero un'intuizione straordinaria Per accompagnare i bambini, educandoli, divertendo E questa? Guardate che meraviglia Qui bellissima la testimonianza delle nostre sorelle Le figlie di San Paolo Che iniziarono a fare porta a porta La distribuzione del giornalino Cioè raggiungevano tante famiglie Tante parrocchie E proponevano la lettura di questo primo magazine Primo settimanale cattolico Destinato alla crescita, allo sviluppo dei bambini e delle bambine Quindi una storia ricchissima Veramente una storia incredibile Sì, qui vedete anche nelle copertine che scorrono Tutta la storia del giornalino Perché ha avuto una grande evoluzione nel corso del tempo Entrando in contatto con... 1972 Sì, 1972 è stato uno tra gli anni di grande cambiamento Perché il giornalino ha iniziato a cambiare formato E è diventato colorato E ha iniziato ad ospitare veri e propri fumetti E non più storie illustrate Diventando anche un punto di favore Un punto di aggancio Per i fumettisti più importanti del panorama italiano Veramente complimenti Grazie Oggi ci sarà la festa Oggi pomeriggio Grande festa e ci sarete voi Quanti bambini ci saranno? Mi pare oltre 200 Allora, oltre 200 quelli prenotati All'Esplora Sì, al Museo Esplora qui a Roma Alle 17 oggi pomeriggio E penso che poi quando ci sono i bambini Dobbiamo partire dai loro sogni E i bambini, il Papa l'ha detto diverse volte Poi con questa giornata mondiale Ha detto ripartiamo da loro Ha quasi capovolto il paradigma Generalmente sono i bambini che devono apprendere E invece, visto il fallimento degli adulti Siamo noi ad apprendere dai bambini Sì, è vero Però Eleonora Vorrei anche dire che accanto a tanti bambini Ci saranno i loro genitori Per poter aiutare i bambini a crescere Bisogna amare i loro genitori Quindi è una sfida doppia quella che ci poniamo Grazie a tutti